Cioè no, io ero lino, ho visto in priori però che c'era praticamente un po' di datti. Allora le patate lesse ho fatto un bel purè, mentre ora praticamente sto mettendo delle linguine. Come le condirò, visto che dice un po' di fegato di ieri sera, e di qua praticamente ho preparato degli imbultini senza la mortadella. Come fare ho? Beh, qui intanto ho messo fatto il caffè per il dopo partita, mentre qui appunto ci ho grattugiato un po' di cuore di tonno. E ora provvederò mentre a Empoli ho comprato delle olive, le ho fatte schiacciare. Niente, ora vedremo di vedere, già questo sarebbe abbastante per buttare giù le linguine e farle saltare il latte e cuore di tonno. E ci manca, ci manca nulla.